Ciao a tutti e buona Pasqua! Oggi apriamo un luogo di Stranger Things con la speranza di trovare il demogorgone speriamo allora abbiamo pesato io non l'ho pesato quando l'ho comprato l'ho pesato a casa ed è 420 grammi speriamo che ci sia demogorgone le altre sorprese saranno anche belle però io amante di cose horror giustamente non potevo farmi scappare il demogorgone la carta è bellissima perché abbiamo l'ha scritta senza fin anche i disegni del demogorgone quindi è utilizzabile per fare qualche altra cosina il cartoncino davanti è pure molto bello abbiamo i 3 personaggi della serie e poi per la prima serie perché 11 ha i capelli rasati al luogo è quello da 220 grammi e viene detto Green Kinder Grand Surpresa a teens viene chiamato apriamo e vediamo se riusciamo a trovare il demogorgone poi ci stanno 3 sorprese il videogioco la cassetta di Will e poi il mostriciattolo eccolo questo qua è rigato bellissimo come sono belle le uova della Kinder quando sono rigate e sono anche super profumate ti prego fa che ci sia il demogorgone la forza di Undertaker eccoci qua 1, 2 e 3 sì abbiamo trovato il demogorgone che adesso si mangia tutti quanti e fa bene che bello che bello quello questo è un portacellulare diciamo è per appoggiare il cellulare eccolo qua allora qua fa vedere ecco le 3 sorprese che si trovano quindi cassetta videogiochi demogorgone qua ci sono le istruzioni per montarlo fa vedere ecco come si può utilizzare e poi sono usciti gli adesivi molto belli e poi abbiamo la card la card che di qua abbiamo il demogorgone e di qua abbiamo 11 questo mi sembra che dovrebbe essere un segnale però comunque è molto molto bello quindi è da collezionare e c'è tanta roba c'è pure dura da pulire l'uomo allora qua si deve montare allora andiamo un po' si guarda là ok nel sotto a sopra stiamo andando guarda e andrà a fare un giro ok ma che forte no ma è incredibile è incredibile va bene allora poi abbiamo la scritta sì questa c'è la scritta stranger things che diciamo dovrebbe illuminarsi la sera ma ok allora eccolo qua è stato allora eccolo qui il nostro mitico demogorgone che esce da sotto sopra e qui dove c'è questo incavo si può mettere il cellulare sia in verticale che orizzontale come si preferisce come anche diciamo in base alla grandezza del cellulare e poi qua abbiamo questo pezzettino ecco che poi si unisce qui eccolo poi una volta chi lo mette sopra vabbè diciamo da queste parti eccolo qua veramente veramente una bellissima sorpresa bene spero che questo video vi sia piaciuto vi mando un bacione alla prossima buona Pasqua ciao ciao